Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono gli Stratter Pack di Fortnite e oggi vi farò vedere come completare tutte le sfide di Marshmallow Vi ricordo che non dovete fare le sfide, qualsiasi sfida, della modalità parco giochi e creativa Allora, per andare a... Per andare... dovete andare alla discoteca per sbloccare il graffito che sarebbe qui Non metto a fuoco Comunque la discoteca Ragazzi, mi sta pure laggando Comunque, dovete andare qui Ecco, qui voi troverete al posto dell'ama Marshmallow Io questa sfida l'ho appena fatta e quindi non posso, cioè non ve lo faccio vedere, non ve lo fa vedere a voi Allora, voi dovete andare qui dai camionisti Per prenderle... per prendere... Invece... il piccone Dovete ballare davanti ai camion E poi dovete ballare Kip de Mellola, come si chiama E poi si sblocca la sfida Poi bisogna andare alla gelateria Per prendere appunto... per fare la seconda parte della sfida di... per prendere il piccone Infine bisogna andare alla pista di ghiaccio Tutto questo ragazzi Finisce qui il video E ciao Ciao